La zanchetta dalla bandierina libera in qualche modo la difesa del Chievo, poi Fabiano per Vives a destro, fantastico, al decimo del secondo tempo Lecce in vantaggio, Vanuti, Bentivoglio, la deviazione di Machinwall, alle spalle di tutti sbuca ancora Mantovani ed è il pareggio del Chievo, uno a uno Mantovani.